Sarà disposta l'autopsia sulla donna di 29 anni che ieri sera è morta in seguito a un tragico incidente che si è verificato sulla Trignina in territorio abruzzese. Il corpo si trova al momento all'ospedale di Chieti a disposizione della magistratura. Da accertare ancora la dinamica dell'incidente che si è verificato all'altezza di Lentelle in un tratto rettilineo dove la donna di nazionalità romena ma residente a Vasto è stata investita da una Fiat 600 che si dirigeva verso Isernia e guidata da un ragazzo di 36 anni. Sulla zona era già buio e l'impatto è stato violentissimo. Per la donna non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri, la polizia stradale insieme all'ambulanza del 118. Ai militari il compito di ricostruire la dinamica e capire il motivo per cui la donna si trovasse a piedi in quel punto sulla statale. Sembra che fosse scesa da un furgone un Fiat Ducato guidato da un conoscente di 65 anni. Il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code di mezzi in attesa. La statale è stata anche chiusa al traffico per permettere i rilievi.